Amici sportivi, a tutti voi la più cordiale buonasera. Apriamo dunque con il calcio, con il campionato di Serie D e con la Lucchese, che era impegnata oggi al Porta Elisa contro il temibile Abano Termal Ceccato. Splende il sole sul Porta Elisa, la domenica è primaverile e la Lucchese spera di scaldarla. Per la classifica e per i propri tifosi, a corso in buon numero. Pagliuca cambia molto rispetto a San Colombano, cinque undicesimi nuovi di Zecca, i due esterni Petrini a Zolin, al debutto assoluto il rientrante Nole a centrocampo e l'atteso Raicevic al centro dell'attacco, sperando che risolva la faccenda. Che si chiama Abano Termal Ceccato, quinto in classifica, ma potenziale superiore al rango. E poi i Veneti vengono da due sconfitte consecutive, per cui calma e gesso. In tribuna anche Sergio Carnesalini, ex rosso-nero, attuale consulente di mercato dell'esperia Viareggio. Forse una va scoperta per il campionato che verrà di Lega Pro? Parte forte la Lucchese, un minuto e quaranta sul cronometro, cross pennellato di Tarantino. Chianese e Raicevic sono in ritardo d'un soffio. All'uttavo Lucchese in vantaggio, lancio in profondità di Aliboni. Raicevic si avventa sul pallone ed inganna Merlano, ma il gol pare del capitano, che va in doppia cifra, sono dieci. Subito dopo ancora Riboni su punizione, fa partire un bolide di terrificante potenza. Il pallone incoccia il sette e l'Avano si salva. La reazione degli ospiti si chiama rei volpato, ma non fa male. Lucchese a tratti spumeggiante. La palla gol capita sui piedi di Raicevic, che calcia a colpo quasi sicuro. Merlano si riscatta e coi piedi respinge. Tarantino scatenato svicola via sulla destra, ma sul cross Merlano smanaccia e mette fuori tempo gli attaccanti rossoneri. Il tempo si chiude con tiro di Aliboni dopo scambio Tarantino-Petrini, ma la mira del capitano stavolta è imprecisa. Qualche secondo più tardi Raicevic protesta per un mani dei difensori patavini dopo delizioso controllo a seguire. In avvio di ripresa la Lucchese morde e trova lo splendido raddoppio. È l'undecimo. Raicevic controlla con caparbietà e serve con tocco delizioso Nole, che all'altezza dei 14 metri scaraventa dentro il 2-0. Non a rete stagionale per il centrocampista di San Mignato. La Lucchese controlla, ma quando affonda è sempre pericolosa. Qui Tarantino costringe Merlano alla respinta coi pugni. Insidiosa alla mezz'ora una punizione tagliata di Bedin. È una delle poche volte che gli ospiti si rendono pericolosi. Poi viene espulso Pagliuca, che però non se ne vuole andare e per farlo allontanare dal campo ci vogliono davvero i mezzi forti. Al 36esimo stupenda azione di Chianese, ma Calcani spreca tutto calciando a lato. Standing ovation poco più tardi per Raicevic è rilevato da De Luca. In pieno recupero, lo stesso De Luca, servito da Floris, va vicino al terzo gol. Finisce 2-0 con pieno merito, successo limpido e risultato che forse sta anche stretto ai rossoneri, che rimangono a due punti dalla Correggese. E la sfida continua. Vediamo allora i risultati della 26esima giornata del campionato di serie di Girone D. Atletico Montichiari Riccione 10-0, Correggese Fidenza 2-0, Forcoli Camaiore 0-1, Formigine Clodiense 1-1, Fortis Juventus Castelfranco 2-1, Lucchese Abano Terme come abbiamo visto 2-0, Massese Emolese 3-0, Mezzolara Palazzolo 2-1, Romagna Centro San Colombano 2-0. Questa è la classifica, la nuova classifica, vediamo le prime posizioni, Lucchese che è seconda, due punti dalla Correggese, Correggese 64-0, Lucchese 62-0, seguono poi la Fortis Juventus a 55-0, Mezzolara 53-0, la Massese che sale al quinto posto a 50 punti, in coda ormai possiamo dire condannate Riccione e Forcoli, si sgomita per le altre posizioni, fa un piccolo passo avanti il Camaiore che sale a 22 punti. Il Viareggio aveva anticipato a venerdì l'impegno con il Lecce, vincendo per 2-0 con doppietta di Glivannucchi. Oggi si è completato il quadro della 27esima giornata del campionato di prima divisione Girone B. Vediamo allora tutti i risultati. Ascoli-Pisa 2-1, Benevento-Frosinone 1-1, Grosseto-Salernitana 2-1, Paganese-L'Aquila 0-1, Perugia-Barletta 3-0, Pontedera-Catanzaro 0-0, Viareggio-Lecce 2-0, riposavano Prato e Cubbio. Classifica il Frosinone al comando con 52 punti, Perugia 49, Lecce 46, Pisa e Catanzaro 42. Il Viareggio, grazie alla vittoria di venerdì, è salito a quota 24. E vediamo anche i risultati degli altri campionati, quelli dilettantistici, iniziando dall'eccellenza, dove si è giocata la 26esima giornata. Cenaia, Pietrasanta Marina 1-4, Larcianese-Lammari 3-1, Pro Livorno-Monsummano 2-2, Quarrato-Urbino-Taccola 3-3, Rosignano-Ponsacco 0-0, San Marco-Avenza-Castel Fiorentino 2-1, Castelnuovo-Pescia-Uzzanese 2-1, riposava il Ghivizzano-Borgo-Amozzano. La classifica, Ponsacco 62 punti, ormai vicinissimo alla promozione in serie D. Pietrasanta Marina 51, Castelnuovo 47, Larcianese 43. Per le prime posizioni, il Lammari rimane a 30 punti in compagnia del Castel Fiorentino, il Ghivizzano-Borgo-Amozzano a 29, perché, come avete visto, ha riposato. Piudono-San Marco-Avenza 17, Monsummano 14. Promozione Girone A, 25esima giornata, Bagni di Lucca-Montelupo 1-0, La Portuale-Lunigiana 2-2, Ceretese-Malisetti 1-0, Realforte-Querceta-Zenit 1-0, San Mignato-Terme-Montecatini 0-1, Seravezza-Saginale 2-0, Vaianese-Lampo 3-1, Vicchio-Signa 0-3. Classifica, La Portuale 58, Realforte-Querceta 49, Bagni di Lucca 45, Seravezza 42, Malisetti-Eterno-Montecatini 39. In coda, al di là del Signa, che chiude il gruppetto delle squadre pericolanti a 27 punti, Montelupo 11 e il Vicchio, che da questa sera, possiamo dirlo, è anche matematicamente retrocesso in prima categoria. E passiamo appunto alla prima categoria, Girone A, 25esima giornata, Aullese-Coreglia 1-1, Barga-Ponte-Bugianese 0-6, Marginone-Piaefosciana 0-3, Sporting-BM-Porcari 1-3, Montignoso-Podenzana 1-1, Vallicisa-Folgor-Marli a 2-0, Villa-Basilica-Serricciolo 1-2, Vorno-Capezzano-Pianore 1-1. Due squadre al comando, sono il Ponte-Bugianese e il Vallicisa con 50 punti, Piaefosciana 46, Capezzano 45, Aullese 44. In coda molto serrata la lotta nella zona play-out, dalle squadre che hanno 29 punti, fino al Potenzana 24, e Villa-Basilica 23, Barga con 10 punti, ormai attende solo la matematica per sancirne la retrocessione in seconda categoria. E chiudiamo appunto l'ampio quadro dei risultati con la seconda categoria a girone C, 25esima giornata, Acqua Calda-Montagna-Pistoiese 0-1, Corsagna-Aquila 1-1, Fornaci-Tau-Alto-Pascio 0-1, Morianese-Filettore 2-3, Orentano-Sacrocuore 5-2, Piano di Coreglia-Gorfigliano 2-0, River-Pieve-Montuolo-Nave 1-0, Virtus-Fornoli 1-1. La classifica, Filettore 54, Piano di Coreglia 53, Orentano 47, Fornaci-Gorfigliano 45, River-Pieve 43 per le prime posizioni. In coda Virtus 27, Aquila 24, Montuolo-Nave 23, Acqua Calda 17, Chiude la Morianese con 10 punti. Passiamo alla palla a volo, dopo l'ampia pagina calcistica, la Nadia Centoni, la nostra campionessa di volley femminile, dunque potrebbe tornare in nazionale. Se ne sta parlando da qualche giorno, riepiloghiamo il tutto in questo servizio. L'arrivo sulla panchina azzurra di Marco Bonitta potrebbe clamorosamente riaprire le porte della nazionale azzurra alla pallavolista lucchese Nadia Centoni. Pare infatti che la federazione ritenga necessario rispolverare atlete magari non più giovanissime, ma affidabili e competitive in ambito internazionale per i campionati del mondo che l'Italia organizza a settembre. Da qualche anno la campionessa lucchese è uscita abbastanza inspiegabilmente dal Giro Azzurro, ma sempre da qualche anno la stessa Centoni gioca con grande profitto e da protagonista assoluta nel campionato francese con la maglia del Rennes, dove spesso è stata decisiva anche in Coppa Campioni. Solo un paio di mesi fa straordinare la sua prestazione in Turchia sul campo del Galatasaray, proprio guidato da quel massimo Barbolini che in modo immeritato e prematuro l'aveva esclusa dalla nazionale. Evidentemente, almeno negli ultimi tempi, non sempre è stato così per i soloni del movimento pallavolistico italiano femminile. Adesso però, con i mondiali di casa alle porte, qualcuno ci sta ripensando. Per la serie, meglio tardi che mai, oppure non è mai troppo tardi. E così anche Nadia Centoni potrebbe rivestirsi da Azzurro, un torto ripagato, seppure in ritardo. Vedremo quello che succederà appunto sul caso di Nadia Centoni, se ritroverà davvero come tutti quanti auspichiamo e come forse crediamo è anche giusto la maglia azzurra. A proposito di pallavolo, scendiamo un po' più in basso, diciottesima giornata del campionato di serie B2 femminile, la nottolica Capanno rifatica, ma vince 3-2 sul campo della Credit Umbria Ternana. Le bianconere consolidano così il terzo posto in classifica, che vale playoff. Ancora una sconfitta a 3-0 del Delta Lu QPL, battuto in casa dalla capolista Zambelli Orvieto. Parliamo anche di hockey perché la ventunesima giornata ha offerto spettacolo ed emozioni allo stato puro, soprattutto sul campo, sulla pista del Bassano, dove era impegnata la capolista Forte De Marvi. Ebbene, rosso-blu, pensate, ad un certo punto perdevano 5-1. Guardate il risultato, hanno vinto 7-6. Quadro completo, Sarzana, Amatori Lodi, 9-13. Follonica, SPV, Viareggio, 7-1. Valdagno, Matera, 7-1. Bassano, Forte De Marmi, 6-7. Quattro gol di Pablo Cancela. Giovinazzo, Correggio, 4-1. Cigici, Viareggio, bene anche i bianconeri, 3-1. Prato, Breganza, il posticipo si gioca martedì sera. La classifica, Forte De Marmi, 54. Breganze, 45. Cigici, Viareggio, 43. Valdagno, 42. Follonica, 37 per le prime posizioni. In coda resta immutata la situazione. Matera, 7. Correggio, 6. SPV, Viareggio, 3. Vi ricordo che retrocede solo l'ultima squadra classificata. Chiudiamo ricordando che Breganze, Trissino, Sarzana e Prato hanno una partita in meno. Siamo al basket. All Star 2014 di basket femminile. Rimini vince la squadra delle straniere, lo Star Team, che ha battuto la nazionale italiana 62-56. Partite equilibrate. In campo, tre ragazze del Gesam Gas Lemura-Lucca. Francesca Dotto, 11 punti e Crippa, 4 nell'Italia. Megan Mahoney, 4 punti nelle fila delle straniere. Domenica prossima riprenderà il campionato e per la squadra di Diamanti, Lemura, ci sarà la gara interna in casa contro il Priolo. Chiudiamo con una bella notizia di atletica leggera. Fabrizio Boggi della Virtus Cassa di Risparmio di Lucca si è laureato campione italiano Master categoria M50 nel salto in lungo con la misura, considerando che parliamo di Master e di un'età già abbastanza relativamente avanzata, con la bella misura di metri 5 e 52. Complimenti a Fabrizio Boggi. E con questa bella notizia di atletica si chiude anche la pagina sportiva. Vi ringrazio per l'ascolto. Dopo una breve pausa pubblicitaria, il Tg prosegue con la terza ed ultima parte. A tutti voi, la più cordiale. Buonasera.